Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 22 gennaio 2019. Siamo in diretta come sempre, come tutte le mattine, alle 7.30 per vedere quali saranno i titoli delle notizie più importanti che vedremo tra poco sui quotidiani, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Ma c'è attenzione particolarmente alta sul tempo che sta cambiando, è arrivata la prima neve, questa sera avremo ulteriori precipitazioni anche sulla costa, vedremo tra un istante dove adesso il Santo del Giorno. Vediamolo con l'aiuto della grafica, oggi è San Vincenzo Pallotti. Il sole è sorto alle 7.33, anzi sorgerà alle 7.33 perché mancano due minuti, quindi siamo precisi, e andrà sotto alle 17.05, anche se oggi il sole, non so se riusciremo a vederlo perché sarà coperto dalle nuvole, nuvole che rilasceranno tanta neve, soprattutto in montagna, ma anche stasera sulla costa, soprattutto centro-settentrionale. Il limite delle nevicate infatti inizialmente sarà intorno ai 400 metri, quindi a quote basso-collinari, però localmente arriverà la neve fino alla costa, soprattutto nella seconda parte della giornata, quindi dal pomeriggio sera. Nel settore invece meridionale delle Marche, il limite delle nevicate sarà attorno agli 800 metri, poi si attesterà sui 400 nel pomeriggio, quindi va da sé che intorno al confine con l'Abruzzo, sulla costa tenderà a piovere. In diminuzione le temperature, soprattutto quelle della notte, che si registreranno nella seconda parte e anche quindi il pomeriggio, quando andrà via il sole, insomma le temperature minime saranno in diminuzione, quindi porteranno la neve anche, come dicevo, in alcuni casi anche sulla costa. Per la giornata di domani, andiamo a vedere subito come si presenta la giornata di mercoledì 23. Al mattino avremo ancora la possibilità di qualche precipitazione nevosa lungo la costa, limitatamente al Pesarese. Saranno precipitazioni sparse a carattero di rovescio, però soltanto domani mattina e nella serata. Avremo occasionali precipitazioni durante anche le altre ore del giorno, però il limite delle nevicate sarà a quote basso collinari domani o pianeggianti nel settore centro-settentrionale, mentre attorno ai 400 metri, quindi rialzo al sud. Il pomeriggio addirittura si arriverà ai 900 metri come altitudine, quindi insomma, come dire, le temperature nei valori massimi, infatti domani tenderanno a salire, e quindi salerà anche il limite di queste nevicate. Andiamo a vedere la giornata di giovedì. Giovedì non cambia molto, nel senso che sugli appennini continuerà a nevicare, quindi saranno tre giorni di neve continua, mentre butterà in pioggia su tutta la costa adriatica. Infatti il limite delle nevicate giovedì sarà intorno ai 500 metri a nord e intorno ai 900 metri a sud della regione. Anche giovedì le temperature tenderanno a salire. Migliorerà un po' nel fine settimana. Adesso andiamo a leggere invece i giornali. C'è una notizia di cronaca in esclusiva sul Corriere Adriatico che arriva da Montecchio di Vallefoglia. Una brutta avventura per un montatore di mobili, un fanese di 55 anni, un artigiano, che è stato ferito a colpi d'ascia da una coppia albanese, una famiglia albanese che ha segregato e massacrato, così scrive il giornale, un 55enne fanese. Lo vedremo tra un'istata. Centropagina, rivoluzione agli incroci pericolosi. A Pesaro, New Jersey, per impedire manovre scorrette, si parte dalla zona del mare. Marciapiedi allargati e fioriere rialzate per proteggere i pedoni. Muraglia, sito a rischio, lo scrive Marche Nord, l'ex presidente di Asset Holding. Ha depositato un esposto in procura. Stiamo parlando di Teodosio Auspici, che è ex presidente di Asset Holding, ma che adesso fa parte della lista civica, la sinistra per Fano. Il giallo della pagina 5. E poi i vis, samba, derby al Benelli, Fano assalto invece al Sud Tirol. Parliamo di calcio. Ma andiamo a vedere questa notizia che pubblica il Corriere Adriatico, firma di Gianluca Murgia. Questa mattina da Montecchio, vuole i soldi pattuiti, senza fare sconti, segregato in casa e ferito con l'ascia. Incubo a Montecchio per un artigiano fanese, 55enne, vittima della follia di due clienti albanesi. È successo un po' come in un film dell'orrore. Hanno chiuso dietro di lui la porta di casa e l'hanno tenuto in ostaggio. Picchiato e ferito a colpi d'ascia. Ora, la storia ve la lascio leggere sul giornale di questa mattina. Vi dico soltanto che è successo intorno alle 4 e mezzo di ieri pomeriggio. Queste persone erano in tre a montare questa cucina, avevano finito, si erano arrivati al prezzo e qualcosa lì è andato storto, nel senso che sul prezzo non si sono trovati d'accordo. Però, alla fine, questa coppia di albanesi è passata alle mani pesanti. Avevano portato mobili al prezzo concordato, loro però esigevano di pagare molto di meno. Alla fine è rimasto ferito ad un piede, il piede è stato tagliato, la caviglia è rotta, i suoi due aiutanti sono riusciti a fuggire e a dare l'allarme in tempo. Sempre sul Corriere, la pagina di Fano, invece, la donazione da parte dell'associazione Maruzza di Fano di un apparecchio innovativo usato anche dalla NASA, quella che va sullo spazio, al reparto di Pediatria del Santa Croce. È un sistema per sanificare l'aria, è questo contributo che appunto è stato donato. È il macchinario, è questo qui, che vedete cerchiato di giallo in questo momento. Nella fotografia c'è Berselli, il direttore generale Capalbo, Elmo Santini dell'associazione Maruzza e poi il sindaco di Fano Massimo Seri. Si lavorerà anche la domenica per la tribuna scoperta dello Stadio Mancini, l'impegno serrato per i pilastri a sostegno della struttura, struttura e Stadio Mancini che ancora ha la tribuna, quella d'onore, chiamiamola così, quella che ancora senza copertura, quindi scoperta. Sullo sport, invece, il centrodestra fanese deve tacere. Bacchiocchi del Partito Democratico ricorda il nulla di dieci anni di governo e si fa riferimento ovviamente alla giunta guidata da Stefano Guzzi. Del Bianco ha fatto bene, Del Bianco ha fatto tanto, Caterina Del Bianco, che sta svolgendo, secondo Bacchiocchi, un ottimo lavoro. Ma si parla molto anche questa mattina sul discorso, sulla variante al piano regolatore di Fano della clinica privata. Secondo il centrodestra è la variante illegittima e deve essere ritirata. Garantiti gli affari ai privati, nullo il protocollo invece con la Regione. In questa fotografia vedete la candidata a sindaco del centrodestra, Lucia Tarsi, insieme a Davide Del Vecchio dell'Udc. Per Tarsi non i servizi convenzionati, bensì il pubblico di qualità è utile contro la mobilità passiva. Tre gravi criticità per il Forum dei Beni Comuni, tagliati i posti letto, consumo del suolo e niente contributo di costruzione. L'altra pagina di Fano invece si occupa delle acque balneabili, sono stati convocati tutti i portatori di interesse, si discute la perimetrazione della Regione, al via osservazioni e segnalazioni di criticità. L'incontro è alle 15.30 alla Mediateca Montanari, tra i punti più a rischio è la foce del torrente Arzilla. Poi si racconta di un tradizionale appuntamento alla cooperativa Tre Punti di Fano, per il pranzo di Sant'Antonio sono state riunite tutte le associazioni, un'iniziativa che si svolge ormai da tre anni appunto alla cooperativa Tre Punti di Fano. Muraglia, il sito è a rischio, lo scrive anche Marche Nord alla Regione. L'ex Presidente di Aset Holding ha presentato un esposto alla Procura sullo studio di fattibilità del 2014, nella notifica anche il giallo della pagina 5 del documento, scomparsa dalla versione archiviata. Poi dal Consiglio invece pesarese, via libera ai rimborsi per i danni della Grandine, si procede con 91 stalli a Baia Flaminia e spuntano una nuova area pedonale. Sulla operazione in croci sicuri a Pesero, New Jersey contro i furbi. Cosa sono i New Jersey? Sono questi, quelli di plastica, questi bianchi e rossi, se ne vedono tantissimi in giro per le nostre strade. Allora si parte dalla zona mare di Pesero e poi in altri quartieri della città, fra cui Villa San Martino, Pantano e Issoria. Verranno installati questi New Jersey di plastica nelle intersezioni più pericolose, spesso treatro di gravi incidenti. Il costo sarà di 60 mila euro. Mentre sulla pagina 2, anzi la pagina 3 del Corriere Adriatico, sempre sulla viabilità, rondò su largo tre martiri, trasferita la fermata dell'autobus, restano invece al loro posto sia la piadineria che l'edicola. Mentre addio ai semafori di Cattabrigo, c'è l'ok dei tecnici, gli uffici sono al lavoro anche sul bando per il collegamento con Vismara. Siglato il nuovo patto sugli affitti, dal 1 marzo, ribasso del 10%. Si tratta di agevolazioni fiscali, sempre ai proprietari che vivono a Pesero, la città sarà divisa in otto fasce e il blocco dei prezzi durerà tre anni. È un po' una versione aggiornata dall'ecocanone. Da quando non esiste più l'affitto ad ecocanone, l'opzione migliore per risparmiare è il canone concordato. Si tratta di un contratto locazione a prezzi calmieranti che sono oggetto di grande attenzione in quanto i beneficiari sono sia gli inquilini ma anche i proprietari. Andiamo sulla pagina della Valle del Metauro perché si parla di una iniziativa che porta la firma di quattro sindaci Marchetti, Aguzzi, Vichi e Del Bene è un'iniziativa che riguarda un marchio, se vogliamo chiamarlo così, un marchio che racchiude quattro comuni quattro comuni che si identificheranno nella marca Flaminia quindi quando vedrete marca Flaminia significa che quello che state vedendo è una cosa concertata, concordata realizzata insieme a tutti questi quattro comuni e servirà questa marca Flaminia per valorizzare sia i beni che i servizi locali. C'è stato questo accordo firmato nei giorni scorsi da questi quattro sindaci oltre ai disciplinari garantito anche il rispetto dell'ambiente promossa un'immagine unitaria ma questo servirà anche come dice il vecchio detto l'Unione fa la forza anche per chiedere per chiedere interventi dall'Europa per chiedere soldi all'Europa fondi europei eccetera eccetera quindi più si è uniti e meglio è due gare nazionali invece questa è la buona notizia per chi ama andare in canoa ci saranno due gare nazionali a marzo lungo il fiume Candigliano sarà un 2019 ricco di avvenimenti almeno stando a quello che dicono il presidente dell'associazione forse empronese di questi canoisti che sono entusiasti per queste date per queste iniziative il 2 e 3 marzo si svolgeranno lungo il fiume Candigliano due gare nazionali per esempio ce n'è una che partirà da Acqualagno a una gara di velocità sprint per un tratto di 500 metri e gare di resistenza classica per un tratto di 4 chilometri e mezzo e quindi insomma sono belle iniziative per chi ama questo sport e poi c'è il giallo invece dalla Valle del Cesano da Terre Roveris che è del gatto impiccato ricorderete ieri oggi sono intervenuti i carabinieri il presidente della Federcacia di Orciano dice solidarietà a May che è il gestore della pagina social di Terre Roveresche per questo gesto vile infatti i carabinieri si sono interessati di questa vicenda di questo gatto morto legato al cancello dell'abitazione di Andrea May che è amministratore di una pagina Facebook che si chiama Consiglio dei Cittadini di Terre Roveresche hanno raccolto un po' di informazioni non è stata depositata alcuna denuncia di conseguenza non può partire un'indagine dettagliata l'attenzione però si è spostata su una colonia di felini di gatti che occasionalmente viene curata tutelata viene insomma tenuta in piedi e quindi evidentemente questa colonia dà fastidio a qualcuno se ne discute sul gruppo Facebook e insomma hanno preso di mire il gestore che probabilmente avrà difeso immagino questa colonia ecco quindi per dirvi un po' come sono andate le cose puliscono la spiaggia siamo a Marotta questa è la fotografia dei partecipanti alla raccolta dei rifiuti organizzata domenica mattina sulla spiaggia di Marotta sono gruppi che nascono quasi così spontaneamente nel senso che sono in pochi però poi con il passaparola su internet alla fine si presentano in tanti e armati semplicemente di sacchetto e di guanti si mettono a raccogliere a pulire il litorale e questo è il risultato difendiamo ambiente e mare dicono loro l'iniziativa Marotta è partita da un parrucchiere del parrucchiere Bombagioni che hanno insieme raccolto vetro e soprattutto tanta plastica è la seconda volta dicono c'erano molti bambini devono capire l'utilità di queste prassi ecologiche poi invece sempre da Marotta c'è la sollecitazione da parte dei gruppi di minoranza con una lettera aperta al sindaco Nicola Barbieri per cercare di capire che cosa e soprattutto come saranno queste barriere acustiche ferroviarie che dovranno essere installate lungo la ferrovia ora tenendo conto che la ferrovia adriatica passa soprattutto nel tratto nostro come Marotta per esempio passa attaccato al mare e considerato che ci sono tanti alberghi anche da quelle parti tante abitazioni che si affacciano sul mare dunque una barriera capite voi acustica quando si parla di barriera si pensa subito ad un muro che ostruisce poi la visuale in questo caso la visuale è insomma il mare che insomma capite voi bisognerà che qualcuno spieghi ed è questo che chiedono infatti le minoranze che qualcuno spieghi ai cittadini che cosa succederà nel momento in cui verranno tirate su queste barriere in che modo e soprattutto che non sia forte l'impatto che sia il meno impattante possibile e quindi questo chiedono che la cittadinanza di Marotta venga informata di queste barriere poi da Urbino Londèi attrae moderati e parliamo qui di elezioni attrae moderati e gli elettori di CUT consigli di quartiere un'idea che stuzzica le due liste collegate all'ex senatore che appunto Londèi smentiscono un incontro con i rappresentanti di Liberi Tutti e poi sul cardiologo arrestato nei giorni scorsi per abusi sessuali su 11 donne oggi alle 15.30 il cardiologo si dovrebbe presentare dal GIP in tribunale ad Urbino però sapete che c'è il cattivo tempo e Urbino probabilmente anche oggi sarà una giornata di neve quindi l'udienza del dottor Valentino Ferri potrebbe essere rinviata per colpa del maltempo l'udienza è per le 15.30 ora bisognerà capire che cosa decideranno se rinviarla oppure oppure no per quanto riguarda invece e qui cambiamo il giornale il resto del Carlino la pagina di Pesaro apre con l'omicidio Bruzzese e le parole del procuratore generale Sottani che dice a proposito dei pentiti la gestione va cambiata e sull'agguato di Natale parla di stranezze ombre in agguato giocando un po' sul titolo poi nell'entroterra chiudono le scuole ovviamente Urbino ma non solo Urbino vedremo anche quali e poi la testimonianza noi ebrei salvati dal cuore della gente e sotto c'è chi tra i baristi gestori di baristi resiste gestori di bar scusate resiste e offre anzi dà il caffè a 90 centesimi c'è chi resiste a 90 centesimi e quindi mantiene il caffè sotto sotto l'euro per quanto riguarda invece la la diatriba tra confesercenti e confcommercio serra contro confesercenti chiusura totale e poi su Baia Flaminia il comune tira dritto caso parchegge la maggioranza respinge la mozione dei 5 stelle dunque si tende a fare il parcheggio a Baia Flaminia difendere meglio i collaboratori di giustizia il PG il procuratore generale Sottani e il gap sui controlli cioè la differenza sui controlli tra quello che è successo a Pesaro la gestione dei controlli tra quello che è successo a Pesaro e sul resto nel resto d'Italia serve un livello dice Sottani diverso della loro gestione tutto si riferisce ovviamente al delitto di Bruzzese 51 anni sposato tra i figli fratello di Girolamo Biaggio Bruzzese collaboratore di giustizia che è stato ucciso la sera di Natale nella sua abitazione di Via Bovia a Pesaro in pieno centro storico al momento non sono trapelati progressi anche se potrebbero esserci stati ovviamente c'è il massimo riservo da questo punto di vista il funerale tra l'altro di Marcello Bruzzese è avvenuto pochi giorni fa e tutti i familiari sono stati trasferiti da Pesaro però dice tornando alle parole di Sottani mi pare strano che i killer arrivino il giorno di Natale sparano e poi se ne vanno via insomma ci sono un po' di stranezze che chiaramente vanno in qualche modo risolte e poi Ministro ci sono tante tante gravi mancanze nel programma di protezione questo è questo è l'interrogativo che è finito un caso che è finito anche in Senato Grasso e De Petris dicono forse è necessario riformare l'intero servizio visto che cresce il numero di persone da difendere la pagina di Urbino invece è sul maltempo neve e ghiaccio oggi scuole chiuse in città niente lezioni nei plessi di Urbino Caglie, Fossombrone e Urbagna mentre l'università resta aperta sono previste per oggi precipitazioni che dureranno fino a venerdì scatta il piano sicurezza con i mezzi in azione nelle strade della provincia mentre per quelli che la neve per quelli che con la neve ci lavorano quindi parliamo degli impianti sciistici della nostra della nostra catena penninica le piste sono quasi pronte si prevede un weekend super infatti tra l'altro abbiamo detto proprio nelle provisioni del tempo all'inizio di questa rassegna stampa che verso giovedì venerdì insomma il tempo poi migliorerà quindi avremo un settimana fine settimana con il sole ed ecco che nell'appennino le piste da sci saranno completamente innevate con tanta bella neve fresca la pagina di Fano ospedale unico le carte finiscono in procura presentato un esposto da Teodosio Auspici l'ex presidente di Aset Holding il problema del rischio idrogeologico e delle frane anche un giallo quella della pagina 5 che dicevamo con le relazioni respinte sotto del vecchio la variante invece su chiaruccia è illegittima i patti non sono stati rispettati questa sera si torna al voto sulla clinica privata mentre sempre sulla questione sanità l'ortopedia resti pubblica i posti letto alla clinica privata si fa una considerazione che la fa Carla Luzzi Laura Serra che hanno già annunciato in Consiglio Comunale il voto contrario insieme a Riccardo Severi poi il resto del carino questa mattina pancia una due tre riprende un vecchio cavallo di battaglia una cosa che è avvenuta diverso tempo fa anche riferendosi a quello che è successo in Emilia Romagna ultimamente gli affari e le inchieste su le pompe funebri anche Pesaro ha avuto la sua inchiesta e il carlino riparte dall'impresario fanese ferito con l'acido che è Paolo Ferraguzzi 61 anni titolare delle pompe funebri San Paterniano che di rivali in questo ambito nell'ambito dei servizi di pompe funebri ne sa qualcosa perché di rivalità la sua la rivalità l'ha provata letteralmente sulla sua pelle infatti ricorda il giornale nel 2003 venne raggiunto da un getto di acido muriatico tirato gli addosso da due persone che poi fuggirono ora quello che dice lui Paolo Ferraguzzi è che adesso la situazione a Fano è del tutto tranquilla anche se la concorrenza c'è dice lui io lavoro solo mezza giornata la gente se ci vuole ci cerca non la cerchiamo noi sui prezzi siamo ancora imbattibili per questo facciamo tanti funerali questa è la pagina invece del Carlino di Pesaro di all'epoca del 2003 il titolo è volevano uccidermi con appunto lui ricoverato in ospedale con la benda all'occhio ha rischiato è stato per un po' in rianimazione ha rischiato di perdere anche l'occhio a causa dell'acido e poi l'altra inchiesta l'accusa intascavano i soldi delle vestizioni quei sette necrofori rinviati a giudizio forse approfitteranno della prescrizione peculato truffa e rivelazioni di segreti d'ufficio il bottino di soldi pubblici 90.000 euro poi c'è anche un'altra pagina che noi saltiamo ma che c'è sul resto del carino di questa mattina la seconda pagina dedicata a queste inchieste poi dicevamo Ricci che tira dritto a Pesaro sia al parcheggio in Baia il sindaco vogliamo decongestionare la zona respinta alla mozione dei 5 Stelle servono evidentemente questi parcheggi il parcheggio prenderebbe il posto del campetto da calcio del circolo sportivo secondo i 5 Stelle non può essere sacrificato questo campetto per farci un parcheggio che si mangerebbe dunque parte dell'area verde il progetto è pronto però ha detto l'altro ieri l'assessore Enzo Belloni ma attendiamo la fine della stagione per fare i lavori anche perché gli attuali gestori hanno montato il pallone per le lezioni di tennis per quanto riguarda la grandine chi ha subito danni verrà risarcito solo se è in regola con il fisco il comune mette a disposizione 200 mila euro sulla ultima pagina quella di Pialdebrusco invece si parla del problema dei lupi attenti al lupo esperti a convegno per lui per il lupo che guardate che roba una foto bellissima un lupo meraviglioso però evidentemente non va tanto d'accordo con il resto del mondo San Bartolo conferenza ad ampio raggio invitati cacciatori animalisti ed agricoltori questo incontro si tiene venerdì prossimo alle ore 18 a Villa Caprili a Pesaro ci saranno molti interventi in programma e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa vi ricordo che oggi sarà una giornata dal punto di vista meteorologico da qui pomeriggio sera insomma come avevamo già detto una giornata di maltempo di neve e speriamo non di grossi disagi però come sapete insomma Fano TV da 13 anni a questa parte ha la sua vocazione a servizio pubblico quindi tutto ciò che può essere utile a voi telespettatori noi siamo qui pronti per lavorare per rendervi la vita più semplice almeno dal nostro punto di vista e secondo le nostre possibilità quindi come dire la nostra redazione operativa se ci sono segnalazioni potete inviarcele al 338 4968 250 noi le verificheremo e le gireremo ai telespettatori quindi serviranno queste vostre informazioni per così renderci un po' la vita più semplice soprattutto anche negli spostamenti soprattutto se ci sono indicazioni utili per per ciascuno di noi quindi rimaniamo operativi il telegiornale stasera alle 20 e 30 ma anche dopo il telegiornale con la redazione che continuerà ad aggiornare a lavorare anche sui social network e in particolare sul nostro sito internet vi ricordo infine che c'è la nostra pagina il nostro gruppo facebook che si chiama reporter di strada che in questi casi è sempre molto utile dove ci sono tanti segnalatori che appunto postano informazioni di grande utilità noi ci fermiamo qua grazie per essere stati con noi la rassegna torna domani buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.